Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il pulsante, iscriviti, e di lasciare un like per non perdere nessuna notizia dei prossimi video, grazie. Benvenuti nel variegato mondo di News Mix Up, un canale unico e innovativo per notizie in tempo reale. Ora, lasciate che vi racconti uno scossone che ha sconvolto il mondo televisivo italiano. Pier Silvio Berlusconi, figura di spicco nel panorama televisivo, è infuriato a causa di un'intervista shock rilasciata da Barbara D'Urso. La celebre conduttrice, questa mattina, ha accusato Mediaset di averla licenziata senza alcun accordo, gettando nello sconcerto i fan e i colleghi. Berlusconi ha risposto, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, esprimendo gratitudine verso Barbara, ma svelando anche dettagli sconcertanti sulla fine del loro rapporto professionale. A quanto pare, D'Urso aveva richiesto il rinnovo del contratto con alcune garanzie, ma le era stato negato, rendendo la situazione ormai irrimediabile. Con il cuore spezzato, la celebre conduttrice si appresta a concludere il suo percorso con Pomeriggio 5, passando il testimone a Mirta Merlino. Nonostante la sua rabbia e delusione, Barbara sostiene di non aver mai concordato un addio definitivo. Tuttavia, il futuro professionale della carismatica presentatrice rimane incerto, poiché Mediaset sembra orientarsi verso nuove direzioni giornalistiche per il daytime, creando ulteriore tensione nel già travagliato scenario televisivo. Ciò che è certo è che questo avvenimento sta scuotendo profondamente l'industria televisiva italiana. Lasciando tutti con il fiato sospeso riguardo a cosa riserverà il destino a Barbara D'Urso e alle prossime mosse di Mediaset nel suo nuovo corso giornalistico. Restate connessi con noi su News Mix Up per scoprire gli sviluppi più interessanti e sorprendenti. Non dimenticare di visitare il nostro canale, lascia un commento e un bel like, attiva la campanella ed iscriviti al canale. Alla prossima!